questa è la scuola di sei dei dodici ragazzi che sono stato intrappolati nella grotta le classi sono così molto rumorose come forse si può sentire anche da qui ma certamente qui c'è molta diciamo preoccupazione e ansia per la loro sorte ecco qui stiamo entrando in un'altra delle scuole delle classi di questi studenti sono finite ecco questa è una formula classica delle scuole thailandesi edifici squadrati con numerose aule qui dentro studiano 2800 studenti sei dei quali sono intrappolati o sono tra quelli che sono appena usciti dalle grotte ecco questa è un'altra classe vuota con dei murali si è probabilmente disegnati dai bambini magari uno di questi disegni è di uno dei sei che stanno frequentando questa scuola e che ormai non prendono lezioni da diverso tempo anche se il presidente della scuola ha promesso che saranno riportati a livello degli altri e che non ci saranno differenze tra gli uni gli altri